buongiorno a tutte le mondo oggi mi hanno fatto provare la cintura cintura un brasiliano come dice ciro pascal è stata una piacevole sorpresa perché io abituato con lo schienalino è una cosa completamente diversa è una cosa completamente diversa non ho nemmeno idea se l'ho messa bene o no pensate un po in ogni caso non è andata male perché l'ho trovata l'ho trovata comoda non me l'aspettavo porta otto chili credo che al massimo c'è poi sedici proprio a di tanto tanto di più no se che il doppio rivelo ci sono ora ma io l'ho trovata comoda stabile ferma non si è mossa mare concorrente forte acqua che andava a tratti da un metro a tre quattro metri visibilità qui le solite salpe faccio un riassunto così tiro il tasso e poi cominciano a sfilare un branco grande vengano io spero in una spigola in un sarago un muggine perché non c'è nulla ho fatto in due ore e 68 tuffi senza ho visto un muggine da lontano da lontano sulla mia sinistra quando l'ho visto mai provato a giro a fucile che è scappato e poi ho visto un sarago da sarà stato tre etti se era ho visto nulla nulla corrente fortissima questo è l'unico pesce di oggi tirato il tasso sono rivolto parallelo alla costa la riva è a sinistra sono un posto che conosca tutti che ci vado spesso a trovare l'attrezzatura l'univezza tirato il tasso sto chiamando fortissimo col tuo struscia follice quando da dietro che da arriva arriva questa spigola che scorre io riesco a inquadrarla anche perché è già all'altezza del fuscile tiro un bel tiro precisissimo e l'anzagolo le va via la cerco per un po' perché ho detto vai l'ho mancata di per lì e poi invece la trovo e la catturo per fortuna almeno questo pesce di si è preso purtroppo il mare all'orario mi sono buttato lì era l'undici qualcosa montava montava c'era un cambio di corrente questa è la cintura la cintura è stata una sorpresa grazie david che me l'ha fatta provare non so se va montata così o se la parte più grossa va sotto e quella più più fine va sopra grazie a tutti ciao